La Russia espelle sei diplomatici britannici dopo averli accusati di attività di spionaggio e sabotaggio. Il primo ministro Keir Starmer non cerchiamo un conflitto con Mosca. Federazione russa, la banca centrale aumenta i tassi di interesse di un punto percentuale per far fronte all'inflazione e all'economia di guerra. La burocrazia ostacola il consumo di cannabis in Germania. Possibile marcia indietro nonostante la recente legalizzazione. Quanto conta l'orientamento religioso di un leader politico per un elettore? Ancora molto, secondo un sondaggio del Pew Research Center in 35 paesi. Venerdì la Russia ha espulso sei diplomatici britannici dopo averli accusati di attività di spionaggio e sabotaggio. La decisione è stata presa dal Servizio di Sicurezza Federale, che sostiene di essere in possesso di documenti che dimostrano un'attività mirata ad assicurare la sconfitta della Russia nella guerra con l'Ucraina. Nel frattempo il primo ministro britannico Keir Starmer è a Washington per discutere della richiesta di Kiev di poter utilizzare armi a lungo raggio occidentali per colpire obiettivi interni alla Russia. Londra non cerca alcun conflitto con Mosca, ha dichiarato. A cargo vessel carrying grain from Ukraine towards Egypt was struck by what is presumed to be a Russian missile in the early hours of Thursday. The incident took place about 30 miles away from Romania's coastline, outside national waters, but within Romania's exclusive maritime economic zone. Immediately after the explosion was felt on board, the ship's captain radioed for help and asked to change the ship's course towards Romania's Constanza harbour in order to be able to assess the damage. Romania's coast guard reported that no casualties were counted so far and also said that a rescue operation was not necessary. This incident, of course, sparked a number of reactions from Romania's high-ranking officials. First of all, Romania's minister of defence said in a phone call with his Ukrainian counterpart that this turns the Black Sea from an international cooperation area into an active war zone. And also, Romania's ministry of foreign affairs released a statement saying, and I quote, that this is an unprecedented escalation in the illegal and unjustified war that Russia is carrying against Ukraine. Venerdì la Banca Centrale Russa ha fatto sapere di aver aumentato i tassi di interesse di un punto percentuale dal 18% al 19% per far fronte all'inflazione. In un comunicato, l'Istituto di Credito Nazionale ha affermato che la crescita della domanda interna supera ancora significativamente la capacità di espandere l'offerta di beni e servizi. Solo due mesi fa, a luglio, i tassi erano stati aumentati dal 16% al 18%. Nonostante le rassicurazioni del presidente Vladimir Putin sulla stabilità economica del paese, a due anni e mezzo dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, la spesa pubblica per le forze armate continua a mettere a dura prova la capacità dell'economia nazionale di produrre beni e servizi e far aumentare i salari dei lavoratori. Nelle proiezioni della Banca Centrale sono previsti ulteriori aumenti dei tassi per riportare l'inflazione dall'attuale 9,1% all'obiettivo del 4% nel 2025. In Europa, giovedì, la BCE ha invece ridotto i tassi di 25 punti base. Nico Schock sperava di trarre vantaggio dalle nuove leggi tedesche che consentono il possesso di marijuana, ma il suo sogno di creare un club della cannabis per condividere la droga in compagnia a Berlino è stato accantonato. Ha deciso di aprire un ufficio nel vicino stato di Brandeburgo perché il processo burocratico per ottenere una licenza nella capitale è stato impegnativo e poco chiaro. I club che condividono la marijuana sono uno dei modi in cui i consumatori possono accedere alla droga, da quando il suo utilizzo è stato reso legale in aprile, seppur con delle restrizioni. Ma coloro che vogliono aprire i club stanno sperimentando diversi livelli di burocrazia nei vari stati. Il governo locale di Berlino ha dichiarato a Euronews che il Dipartimento Sanitario della città si occuperà dell'approvazione dei locali, ma prima dovrà essere effettuata un'analisi dei costi. Nel frattempo i distretti si occuperanno delle domande. La lentezza del processo è un ostacolo per gli abitanti di Berlino, dove il consumo è molto più alto rispetto alla media nazionale. Secondo alcuni, le difficoltà potrebbero spingere i consumatori a livorgesi a fonti illegali. A lot of the people that were going to set up felt like it was too bureaucratic, so they decided not to set up Cannabis Cultivation Associations. Now, with less Cannabis Cultivation Associations, that leaves many consumers in the dark, and it does give them the attitude or the feeling that they might have to revert back to the illicit market. While owning cannabis has been legalized, it has not stopped the black market. You can come to a park in central Berlin and buy it illegally. It's concerns of such a black market that could eventually lead to the law being reversed. Il partito conservatore Cristiano Democratico, in testa nei sondaggi, ha dichiarato che l'abolizione della legge sarà una priorità dopo le elezioni del prossimo anno, visto il massiccio aumento dei crimini legati alla droga. Ma il Ministero della Salute ha dichiarato a Euronews che le statistiche di quest'anno non sono ancora disponibili. Nico dice che l'incertezza ha smorzato l'atmosfera di festa che c'era una volta. I was waiting for the legalization and fighting for it for many years, so of course I was very excited and looking forward to it when it announced that it becomes legal in the 1st of April this year, but now everybody is a little bit disappointed. Uno dei ghiacciai più noti d'Italia, il Dosde, in Lombardia, sta scomparendo. Le abbondanti nevicate di aprile e maggio hanno alimentato le speranze dei glaciologi regionali sul futuro del ghiacciaio, ma i primi risultati delle misurazioni di fine estate non sono così rassicuranti. Ci troviamo sulla fronte del ghiacciaio di Dosde Est, abbiamo effettuato le misure frontali, quest'anno abbiamo rilevato circa 7-8 metri meno rispetto all'anno precedente. Il ghiacciaio continua a perdere volume ogni anno, dal 1991 è scomparso quasi il 45% della sua superficie. L'unico sollievo è che quest'anno si è sciolto meno degli anni precedenti. Non va meglio nel resto delle Alpi. Gli scienziati avvertono che se il riscaldamento globale continuerà a surriscaldare il pianeta a questo ritmo, il ghiacciaio della Marmolada, il più grande delle Dolomiti, è destinato a scomparire entro il 2040. Una condanna a morte che condivide con i due ghiacciai più grandi delle Alpi, quello dell'Adamello e quello dei Forni. Circa l'84% della popolazione mondiale è religiosa, secondo uno studio del Pew Research Center, e si prevede che il numero crescerà. In alcuni paesi, le credenze religiose e le intenzioni di voto sono strettamente correlate. Molte persone vogliono infatti esponenti politici che condividano la loro stessa fede. Questo è particolarmente vero per alcuni stati asiatici e africani, ma anche per alcune nazioni europee, soprattutto nell'Europa orientale. In Polonia, ad esempio, il 52% vuole che il proprio leader pratichi la sua stessa religione. In Grecia è il 42%, mentre in Ungheria la cifra si attesta attorno al 40%. L'Europa occidentale e settentrionale si trovano al lato opposto dello spettro. Nei Paesi Bassi, solo il 15% delle persone se ne preoccupa. Allo stesso modo, in Germania, Regno Unito, Francia e Spagna, meno di un quarto degli intervistati ritiene che la religione sia rilevante per le proprie scelte politiche. L'Italia è l'unica eccezione tra le maggiori economie europee, con il 30% delle persone che vorrebbe che il proprio leader politico seguisse la stessa religione. La procura speciale del Kosovo ha annunciato mercoledì l'incriminazione di 45 persone che sarebbero coinvolte nell'attacco terroristico del 24 settembre 2023 a Baniska, nel nord del paese. Un gruppo armato di estremisti serbi attaccò una pattuglia della polizia e si barricò in un monastero. Nello scontro, durato ore, rimasero uccisi un agente e tre degli aggressori. Le accusi sono di terrorismo, minaccia l'ordine costituzionale e il riciclaggio di denaro. I funzionari kosovari ribadiscono che c'è Belgrado dietro l'attacco. Venerdì il primo ministro Aleksandar Vucic dovrebbe rispondere alle accuse secondo cui il suo governo avrebbe architettato le violenze. I macchinisti della Boeing sono entrati in sciopero segnando un'altra battuta d'arresto per il colosso costruttore di aerei, la cui reputazione e le cui finanze sono già state messe a dura prova e che ora rischia un blocco della produzione. I lavoratori hanno votato lo sciopero di giovedì perché sono insoddisfatti per la stagnazione dei salari e per le concessioni fatte a partire dal 2008 in materia di pensioni e assistenza sanitaria per evitare che l'azienda trasferisca altrove i posti di lavoro. Il 96% dei lavoratori ha votato a favore dello sciopero.